Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, io sono Vitti871, mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. Il video di oggi sarà un nuovo video lookbook in cui vi mostro come ho abbinato le tute, quindi questi completi che si usano adesso sia in felpa sia in maglia e anche degli spezzati perché ad esempio di piccolo ho i pantaloni della tuta ma non ho la felpa. Vi faccio vedere come li abbino io, secondo me sono dei passepartout, nel senso che a seconda di come li abbinate con giacche, borse, accessori vari, possono risultare molto molto sportive come anche molto chic. Magari ecco, non è che li utilizzerete proprio per andare a lavoro, per seconda del lavoro che fate, ma diciamo che secondo me ci sono di grande aiuto, ci sono di grande aiuto in questo momento in cui molte di noi facciamo smart working, se siete come me in questo momento, se siete come me in questo momento in maternità, o se anche siete casaling e tutto quanto, o semplicemente nel nostro tempo libero, weekend e insomma quando siete a casa dal lavoro, secondo me sono degli ottimi assistenti, io le sto adorando, quest'anno ne ho prese varie e ve le farò vedere appunto indossate, e nulla, insomma, quindi so che questo tipo di video, lookbook, vi sta piacendo molto, questo è anche il primo lookbook con nuovo look, quindi biondissima con i capelli corti, e nulla, quindi spero che questo genere di outfit vi sia piaciuto, questo genere di lookbook vi sia piaciuto, mi raccomando seguitemi anche su Instagram dove sono presente ogni giorno con nuovi contenuti, e noi ci vediamo con il prossimo video, mi lascio agli outfit, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!